buongiorno buongiorno a tutti i ragazzi bentornati a questa conversazione e questo video tra noi e voi ho avuto delle richieste delle domande da alcuni di voi che al quale risponderò ringrazio christian che mi ha scritto se avevo mi era passata la voglia che no no non mi è passata la voglia che c'era poco da dire però sono stato sgridato da alcuni che mi hanno detto non hai commentato il basket non hai commentato la nation league quelle cose lì facciamo un piccolo video per fare un breve riassunto aspettando questo weekend dove torna la nostra amata bene per la serie a con partiti importanti e allora la nation league ha vinto la squadra più forte la francia si è dimostrata quella più forte non non ha giocato meglio della spagna secondo me però perché la spagna secondo me è un po meglio la finale dell'udente primo tempo quasi quasi orribile secondo tempo vivace dopo il gol della spagna però fino al ventesimo anche lì partita molto piatta mi aspettavo di più da queste due squadre alla fine evento quella quella più forte perché per me la francia la squadra più forte e niente di gol il gol lollo il gol per me da annullare però la regola dice che che è che è valido per me è una regola che è da cambiare però finché c'è il regolamento è quello e va va rispettato però se parliamo di calcio quella è una regola che secondo me va abolita perché così il difensore non cosa non diamo non deve andare in scivolata perché nel dubbio che lui sia in fuori gioco secondo me una gran cagata comunque comunque c'è la seconda domanda rispondo a lorenzo che mi ha scritto non hai parlato della del basket la vita fortitudo è tornata a vincere allora lorenzo la fortitudo è tornata a vincere ha fatto una gran partita era su rai sport ti dico la verità non l'ho guardata perché c'era la partita francia spagna e volevo vedere francia spagna però ha giocato ma hanno detto che ha giocato bene l'ultimo quarto quello che ho visto era parte terra era già in ghiaccio per la fortitudo non è commentabile però ho sentito una fortitudo arcigna una fortitudo che si ha messo difesa che ci ha messo cuore che sono poi lo spirito della fortitudo dunque una fortitudo che ha fatto il suo dovere e sono contento che ha messo la classifica adesso ha preso anche un play discreto dura e se si inserisce bene può solo fare del bene a questa fortitudo secondo me manca ancora in nel reparto lunghi ha bisogno di un altro lungo però sta scoprendo quello che io ho detto che per me poteva essere il trascinatore che è ben thing che secondo me è nettamente giocatore migliore della fortitudo quanto riguarda virtus ha vinto a venezia virtus vince di inerzia virtus ha giocato tutti ha detto venezia ha fatto due quarti dice venezia ha fatto due quarti ma ma mi sembra una virtus molto in marce ridotte dove scario lo sta facendo giocare tutti sta centilinando tutti hanno tutto un minutato che viaggia dai 16 17 i 22 23 minuti non c'è nessuno che arriva dei minuti più alti dunque secondo me adesso in questo momento è una squadra come che è in giocabile io da firto sino ti dico la mia è una squadra favorita per lo scudetto quest'anno è nettamente più forte anche di milano secondo me sei nel basket come ha dimostrato l'anno scorso ma sempre sempre stare attenti perché poi dopo nei play off vengono fuori tante altre cose poi in una serie lunga può succedere tutto adesso in questo momento è veramente ingiocavoli a virtus stefano ma chiesto blauvic tu cammini pucba per la nuova juve dell'anno prossimo ragazzi la juve non ha soldi dunque io non ci credo che possano arrivare tutti e tre questi giocatori l'estate dove non hai comprato nessuno se andate ai limosinare locatelli mi devo chiedere cioè come come fai a prendere questi giocatori qui mi mettono in bocca che sono della juve allora innanzitutto blauvic non ha deciso di non rinnovare con la fiorentina è normale che ci mettano la juve ci mettono la juve ma sono perché è più facile far discutere i ventini fiorentini io penso che blauvic andrà all'estero andrà in inghilterra dove lo copriranno di soldi e penso che ducamini sia sia con la falsa regale se la juve non so come non so quando anche perché ho sentito parlare di cessioni di meccanico lusevski quella gente lì ma riuscisse a prendere un giocatore per me cercherà di prendere il giovane del del monaco tu cammini lì tutto come cristo si chiama io penso che un ritorno di pugba sia impossibile anche perché pugba prende 15 milioni di euro dunque aiuta quelle cifre lì non ci arriva più ragazzi siamo a metà ottobre parlare del mercato estivo io penso che sia molto prematuro però ma avete chiesto un'opinione vi dico la mia secondo me blauvic impossibile ma impossibile tu cammini con qualche eccessione mirata ma ragazzi cioè non è che abbiamo delle ferrari magazine abbiamo delle panda delle uno tante volte usate dunque non lo so come 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 possa essere possibile poi sai trovi un altro che dice voglio andare alla juve come ha fatto locatelli li prendi secondo me stiamo parlando di cose un po un impossibile detto questo piccolo preannuncio per il fine settimana ci saranno delle partite importanti ci sarà lazio inter ci sarà juve roma campionato che entra nel vivo questo questo spezzone di campionato che sarà fino alla prossima sosta sosta che deciderà se l'italia andrà in mondiale no visto che avremo lo spareggio roma contro la svizzera partita da non toppare perché non possiamo permetterci non andare mondiali ma neanche di andare a fare gli spareggi visto che secondo me siamo tre gradini sopra svizzera quindi stavo dicendo questo spezzone sono partite molto importanti soprattutto per la nostra juve perché comunque giocheremo con la roma poi avremo l'inter poi se non ricordo male abbiamo sassuolo verona e fiorentina dunque cinque partite in campionato che ci devono riportare ancora più attaccato alla vetta se possibile non ci possiamo più permettere di sbagliare dunque bisogna vincere il più possibile so che ci sono anche gli altri già sabato sarà la parte domenica sarà una partita dura perché la roma ha i giocatori per metterci in difficoltà soprattutto in quella zona di campo dove noi facciamo quasi pena ho sentito che ci sono dei degli infortuni io non la vedo così perché comunque la juve i cambi ce li ha poi se parliamo di livello quella un'altra cosa però io penso che ho sentito che si è fatto male mckennie che se mckennie mette a un po ne prendi un altro lo butti dentro tanto ma che giochi mckennie ma che ciò si mancano mckennie e rabbio ecco però non è che stiamo parlando di fuffa per il resto cosa c'è il milan che è un po che sono arrivate due due piccole tegole una una grande perché il portiere ha detto che tornerà a gennaio comunque salterà un bel pezzo di campionato il portiere quest'anno era era partito molto bene dunque una petita importante ma in giam per il milan faccio un grosso in bocca al lupo hanno preso il mirante giocherà a tatarusano che sono sicuramente due gradini sotto al titolare e poi adesso hanno teo randes col covid che starà fuori dieci partite sembra che salti le due di campionato e quella col porto cosa dire aspettiamo e poi vediamo ragazzi dai siamo qui siamo qui per ballare ci vediamo sabato e domenica per commentare il campionato ciao a tutti e bentornati